Vogliamo portare questa iniziativa mondiale di WIPO in Italia proprio perché riteniamo che parole chiave come legalità, innovazione e sostenibilità facciano parte di un ingranaggio più complesso che se si muove in maniera univoca questi ingranaggi possono veramente portare avanti tutto quello che può riguardare il futuro delle industrie dell'audiovisivo del nostro paese ma anche a livello internazionale con il ruolo che l'Italia ha nel promuovere la cultura che arriva attraverso quello che noi produciamo Il tema fondamentale quando parliamo di promozione delle industrie audiovisive chiaramente dopo la pandemia il termine legalità ha assunto un rinnovato ruolo, significato perché è diventato un vero e proprio propulsore per ritornare chiaramente a un andamento positivo dei settori come quello del cinema, della tv o delle industrie sportive è in corso, in parte in qualche modo si sta già iniziando a vedere qualche spiraglia alla fine del tunnel di una rivoluzione digitale perché chiaramente con i cambiamenti dei modelli di business che hanno avuto una forte accelerazione negli ultimi anni si è guardato principalmente a uno sviluppo di tecnologie che avessero la finalità di portare il contenuto al consumatore finale in questo frangente all'interno di un ecosistema digitale che rappresenta una grande opportunità per le industrie è chiaro che lo sfruttamento illecito di contenuti culturali ed in particolare correlati alle industrie audiovisive possono avere un forte ruolo nell'andamento del mercato ed ecco perché nel nostro paese in pochi anni si è sviluppata un vero e proprio approccio legato alla tutela e come abbiamo visto dall'8 giugno dell'anno scorso è entrata in vigore la più importante se non la più innovativa legge contro lo sfruttamento illecito io direi proprio contro le vere e proprie mentalità criminali che si occupano di sfruttare illicitamente prodotto culturale poi con un unico fine, quello di generare del profitto la unica differenza è se ne fanno di più o di meno ma la finalità è quello di fare del business in questo frangente l'Italia è in qualche modo prima della fila, è un vero e proprio promotore di nuovi strumenti di tutela proprio grazie a ciò che porterà quello che sta portando questa nuova legge In occasione della prossima mostra di Cine di Venezia avete già anticipato qualcosa su We Are Stories 2 ce ne vuole parlare questa nuova campagna? Sì abbiamo in realtà anticipato due cose molto importanti la prima 4 giugno di quest'anno alla Camera dei Deputati per la prima volta in assoluto la nostra federazione insieme a Nando Paglioncelli di Ipsos presenterà il nuovo studio completo sullo stato dell'arte della pirateria nel nostro paese e l'altro invece annuncio che abbiamo fatto è che siamo arrivati o diciamo al punto d'arrivo siamo all'ultimo miglio della post-produzione della nuova campagna We Are Stories la seconda edizione che sarà una campagna al femminile con sei giovani professioniste del nostro settore che realmente racconteranno le stesse persone protagoniste delle loro storie la loro storia il fatto che il loro sogno era così stretto nel cassetto e hanno combattuto con grande determinazione nella loro vita per poter far diventare quel sogno realtà e ci sono riuscite Grazie a tutti Grazie a tutti